Abbiamo fatto la prima giornata di votazioni per il progetto performance dei servizi sanitari regionali che è la quinta edizione, oggi con il panel che ormai è molto numeroso hanno aderito più di 100 professionisti di varie estrazioni, quindi stakeholder del sistema che vanno dalle istituzioni al management aziendale, i professionisti sanitari, gli utenti e l'industria abbiamo sostanzialmente tirato fuori quelli che sono gli indicatori preferiti per valutare la performance del sistema e abbiamo anche cercato di pesarli per andare a costruire la performance adesso il gruppo di Crea Sanità elaborerà questi dati che saranno poi pubblicati e raccontati pubblicamente il 5 luglio è stato scelto come sede per la presentazione a Genas perché il direttore Bevere intervenuto oggi al panel ha offerto questa ospitalità e collaborazione dell'agenzia che è impegnata altrettanto sul tema della performance dei sistemi quindi una sinergia utile certamente e che ci gratifica per il riconoscimento del lavoro che stiamo facendo